Diversi cantieri sulle autostrade abruzzesi, la CNA esprime forte preoccupazione, è un'estate calda sotto questo punto di vista, è caso di dire? Eh sì, le nostre imprese di autotrasporto sono molto preoccupate per quello che sta succedendo in A14 perché il combinato disposto dei sequestri della magistratura sui viadotti dell'A14 e i lavori nelle gallerie per la messa a norma in base alla normativa antincendio di fatto creano dei disagi impressionanti per le nostre aziende con degli allungamenti di tempi di percorrenza enormi e con grosso disagio sia per la consegna delle merci sia per gli autisti che si trovano bloccati in queste interminabili code. Cosa dite e cosa chiedete a Società Autostrade? Noi abbiamo proprio ieri inviato una richiesta ad Autostrade per l'Italia di un incontro urgente con il direttore del settimo tronco che è quello che gestisce l'area tra l'Abruzzo e le Marche dove chiediamo innanzitutto di conoscere un cronoprogramma preciso dei lavori che verranno effettuati per sapere anche per quanto tempo ancora dovremmo subire questi disagi. Non dimentichiamoci che andiamo incontro all'estate e quindi c'è il rischio che a fronte di un esodo di turisti che si recheranno dal sud Italia per andare a fare le vacanze si creino delle situazioni peggiori di quelle che sono verificate nelle vacanze di Natale. Chiediamo di sapere quando verranno dissequestrati i viadotti che sono stati sequestrati dal GIP di Avellino e quando verranno messi a norma con la sostituzione dei New Jersey che sono stati oggetto dei sequestri. E infine chiediamo ad Autostrade per l'Italia se non sia il caso di fare uno sconto al pedaggio, al pagamento della tariffa del pedaggio dal momento in cui l'autostrada oggi come oggi non è più di fatto un'autostrada perché viene percorsa a delle velocità risibili e quindi ci sembra giusto e corretto da parte dell'autostrada per l'Italia che si attui una scontistica sulla tariffa del pedaggio.